Musica Musica Plecia Ma cosa cosa cosa? Perché non c'è la mia vita? C'è la mia vita, c'è la mia vita Non, ma l'inchezza Non, non, non Ma cosa cosa je so, non ma cosa io non c'è il paio Dio che non ci sono Per me prendiamo il problema perché la mia vita è un problema Ma con la mia vita non c'è la mia vita Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non C'è tempo che raccontano. Marche, c'è tempo che rivedi! C'è tempo che non lo puoi. Nella prima cosa, Matteo. Forse non vede, non vede più avanti. È che vede i miei figli e mi aveva porte. Forse non vede. Forse non vede. Forse non vede. non ti sei se cia mi canti dalla domanda non ti sei ci sei non ti sei non ti sei mi brazo se non gli ha venuto ma non le città non ti sei ma a behaviour no non ti sei Si, a prendere una cassa... Vieni la ch المetra! Ho qui? La cassa mi metti. Mi metti una casa? Non no vieni. Mi metti. Mi metti i monti da qua la montagna. La cassa mi metti la nuove. Ma la cassa mi metti la fece. Mi metti ilegali come. Ma la cassa. Mi metti ilegali come la fece. C'è nessuno? No. E' il mio caso da quello che si vuole. Cosa? Cosa? Se sono donne un buon lAvo... Cosa? Cosa? Fankis. Fankis! Fankis. Nessuno che hai sempre? Ehi! Ehi! ehi, ehi, èhi, ho bollumato sotto, mancilla, ho fai un po' di malte, sai, sono qui nella mia mia casa, vedi adesso, io mi sono credito che abbiamo messo, adesso ci sono i due sole, i due nuovi alcuni alcuni, i due sole, i due alcuni, i due alcuni alcuni, Is that kind? Eh, sono tutto. Voi intui che è così... ... ... Ci sono potenti Argentina e no scada... ... ... ... ... ... ... ... Non, 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 non. Come si. Perché mi fa bene? Perché il sta a parlare di una gente, perché t'appretto in mewica, mi aspetta a parlare. Ma che fai, l'opera bai, mi aspetta a parlare di un'amorita, mi è che, tu? La legge del 진로 scopo. La legge del attorno dell'amorità. Mi ha chiesto. Ma attenti, attenti. Attenti, attenti, io. Leave a diritto in cui tolare il risadone in Red Room. Noi sei ce tu, sei che tu hai scato che tu hai scato.. E allora che tu hai scato e tu hai scato? Noi, ioAheli è scato.. Noi, io bello! Tu hai scato qui? Nós stai scato qui? Oh, io a te seguito, ora a me chare.. Sei che sei che sei che sei che èostante, tu hai scato di un sacco di acqua che si stai scato? Non, non. Non, non. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Che ti soffra, eh? Eh, che si, ma i miei ii qui. Che ci si, ma i miei i miei. Eh, no, non mi sento che c'estva. Mi sento che mi sento tutto? Ah, non ho mai più più, i miei i miei i miei. See? Voi i miei i miei i miei, io sono inание. No, eh, io sento che per il mio. Non è molto più che, diventa messa a tevi. È una morte. Così, la mia figlia è pieno e i miei i miei i miei noi, Signor, come rega mi dice. E sudo Jesus Cristo. Dai. Bra! E... Mi e, miai, miai... Genese, vatina Chana. E, e, mi mi e, mi, di... Mi il seg... E mi, mi devi nico A influenzi. Mi e mi... E, mi bra. E, mi, è il bra? Bine, mi ha? Mi sa, mi sa, che non mi, piua, priva. Mi, mi, si? Non, non mi puoi i i i i i i i i i i. No Brepi accounti bene come voi Vedi non vai così male No Brepi Non prensa comunque anche se Vedi perché io stesso Che macieriche È quello che succede Mi notturni C'è il campo Ma cosa dice che ci è finisce? Non, ma stella che diceva bene... Ma nella città, yes, non lo so. Non, che si è capace che vi faccio, non lo so, wazienda me chiede. Da qui ha fatto un figo? Ecco! Non, non, non il fatto un figo! Non ci ho detto, non le succederebbe? Non c'est quello che mi chavo, ecco. Ma madre non leisce di solito poi. Acippare il l'importo. Ah, ma cosa per un po' a visto? Dovamo si per mentre il pino a dei tritoliste... Oh un po' a visto che stai li. Ha, come già te pensi che di una certa forma della campagna? Non, non ma la sua famiglia... Ah, ma ma mia famiglia? Non, 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 ma mia famiglia è la tua famiglia. Ma di questo la tua famiglia, non ma le non... Bene come io. se faccio la domanda se faccio la domanda sto faccio la domanda ok mamisi cazzo ma cazzo hai vedi che che questo io voglio un Se faci la fine, la fine si la fine... Allora... Non si non... Ma ti voglio farlo, ti voglio farlo... G procrastinare, non lo farò... Non mi accrocio, non mi accrocio ho chiesto... Vesous le faccio del loro... Voi... 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 Voi verrà noi? Non, non viesa lei... Voi verrà noi? Io mi ricorda e però noi non mi ricorda... Voi fare alla offerto e in lui Giancarna. V Chi ha troppo vmmeno un mè prima. osa che farà Vini? Lo ami avre là che provano pas. Viso tenha la sua niente, non lo i waste? Ha riuscito, non lo i Barcelona. Voi cosa farà così? Dio. La mia non la riuscire, non ho le diceINI. Voi cosa ninguém vuole? Once Klima mi ha fatto, mi bravoário. Mi condigno libertà anche perché dai! non è che la bambina delle persone di noi non è che il bambino il dico che hai perso? si non è cosa più per Meann si ha perso? ogni secondo te va saperne donata non è quando si ha risposto non è un bambino abbiamo il bambino non è che lo announcements non non gli occidentali non è che le domande non è che la prigione non è che c'è il un bambino non si è venuto non ci sono qui ma città Panto non ti tolto, non ti tolto, non ti tolto, non ti tolto. Non, non ti tolto. Eccoci, io gli scaletti, non ti tolto. Cosa vai... Se ti la faccio, non ti tolto. Rai che cosa i sorgono, non ti tolto. Poi devi sentire una cosa che sta. Non ti chiedo. Ciao! Mi ha detto che ho provato. È창ari, al lio, il dina cacciò. Non ci farò la piccola rivela. Beh, grazie a tutti i tuoi poter mezzoglenni. Eh, mi non ? Il kindere cibo? ito! Accel? Come va, vieni qua a tutti i tuoi testi questi testi. Va bene, mi vieni qua. He e anche qui! Sì, sì, sì.